Guido Conti ha ricevuto oggi il premio Olio Officina per il suo lavoro di scrittore. Uno scrittore che è stato anche un lavoratore agricolo per molti anni e che sa raccontare come pochi la campagna. Lo fa senza nostalgie, raccontando una civiltà che è tramontata ma anche valorizzando la civiltà che sta nascendo. È una civiltà diversa, una civiltà in cui il mondo della campagna si coniuga con l'industria e insieme hanno dato vita a qualcosa di nuovo ma che non è meno produttivo e non è meno gravido di conseguenze e di significati positivi per il mondo futuro. Grazie